Ciao a tutti, sono Isaac29695 Perché questa Warp Room segreta è piatta? Allora, abbiamo sbloccato questi tre livelli segreti Ce ne mancano altri due E quello che abbiamo fino a sbloccato è questo qui Quindi andiamo Sì, andiamo No, sto ancora male Ok, allora Vi ricordate il livello dove avevo detto che non avrei più recensito su Dove avevo detto che non avrei più recensito su Combat? Bene, è questo qui il livello E... Non avevamo preso la gemma appunto perché c'era questa piccola parte segreta Sì Che adesso facciamo? Naturalmente state attenti alla dinamite che c'è stata al centro È una vera rottura Ia vada 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 Boh, fatta Fatta questa piccola parte possiamo andare avanti normalmente E quindi C'è un'altra parte Questa è un'altra parte Allora, qui è un'altra parte Questa è un'altra parte Non andiamo qui perché lì non ci sono gem, non ci sono casse Andiamo, vateli qua Sono indeciso, la prendo o non la prendo? Perché se la prendo fa casino, se non la prendo... Vabbè dai la prendo Cotto in padella Cotto e mangiato scusate Cotto e mangiato Vabbè facciamo questo bonus Maledetto bonus Vedete i bonus che fanno andare avanti e indietro Che rottura Ok Altro che velocità del minigun Qua i frutti salgono più in fretta LOL Dai finiamo sto maledetto livello Brutta scimmietta che non vive in Cina Brutti alieni che non vivono nella Cina di Marte Cosa? No basta Via 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 No perché? Perché questi livelli iniziano a rompermi veramente i marones? Da qualche parte trovi Ehi Wiii Vabbè quindi ne devo prendere 89 89 Uffa è andato bene Porca miseria Perché si mette a rompere pure sta roba qua? Ecco adesso quanto devo andare avanti Ok Poi Andando avanti da questo Sì lo so che non posso andare in quel punto Perché Sono morto Ma allora voi potete anche andare in Cina Visto che sono Aaaaa Dai Mamma mia Vabbè quindi questo è il finale Ciao Ah What the fuck Guarda che brutti coglioti Mi fate venire indietro Stando per queste cratinate Uffa Possibile che tutti quanti i video Anche se i livelli sono facilissimi Tocca farli prolungare fino a 10.000 Minuti Diviso 1000 Yabadabadu Siamo fuori Se muoio adesso Ricordo che non Ogni ancora ha fatto esplodere la dinamita Se muoio Altrimenti L'ho fatta esplodere ma Veloce Ricordiamo che le patate Sono più buone Delle ciliegie Ma cosa costa il ciliegie? Ok Le patate sono più buone Delle verdure Questa è una gran cretinata Stupida scimmia che non vive in Cina Stupido ratto che non vive nelle funne cinesi Fugne cinesi Ok Adesso è il momento dell'ultimo Ok Al All in E ci troviamo al terzo mondo Finalmente Abbiamo Collezionato un'altra gemma Lasciamo fare la lanzetta Chi se ne frega della lanzetta Chi è che ci sta parlando? Ehi Minicoco Che bella Lol Ok Saliamo di sopra Questo video è durato troppo Velocizzo un po' di parti Ci vediamo alla prossima Ci vediamo al prossimo video Ciao e alla prossima